Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi iniziano finalmente le review dei Toz della Premier League, in particolar modo andiamo a vedere nel dettaglio come si comportano in game Salah, Bruno Fernandes e Mané. Account, ma ero abbastanza sicuro di aver disattivato. Minchia Salah di destro, Dio. Più bustate di FIFA, uno dei più odiati. Ragazzo, Salah non ha senso, te lo dico. Dici che è combinato? Oh, bravo Bruno! Ma ti devo dire, cioè qua gioca solo sto Salah. Vabbè ragazzi. Il Genoa che era un vincente... Oddio, guarda Bruno. Il Genoa che... Bravi, 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 bravi. Bella azione questa, l'agilità di Mané e la finalizzazione di Salah col destro. No, Bruno questa ma devi segnare però. Full auto ma... Madonna, guarda Bruno! Oh! Bruno con l'L2 la palla la prende da solo sempre, io non ho fatto nulla, giuro. Mamma mia, il momiere. Vabbè ragazzi. Questo è completamente rotto sto giocatore. Completamente rotto. Mamma mia. Mamma mia, gli sta dando una pista a Marcelo. Una pista, una pista. No, non me la sbaglio. Bravo Bruno! Bravo Bruno! Regà, pochi cazzi. Sto Bruno è... E intercetta comunque. Bravo Mané, corri un po'. Corri un po'. Corri un po', corri un po'. Sì, 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 tutto, tutto. Tutto, tutto. Tutto. È una... Oddio, ma è pure agile sto Bruno. Vabbè, ma questo me l'aspettavo. Vorresti provare a mutire a giro, pure col mancino non è un problema. Giusto per capire. Bastante sboccare a confronto dei dozzi. Bravo, Sadio! Che bello che sei. Guarda come skill. Tagliela un po'. È gran piede di Bruno. Però bel lancio. Poi, in termini di automatismi. Guarda Bruno! Vada, salavada. Godo, Sium! Va, Bruno! Sì, né! Bravo Mané, Sium! Sium, 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 Sium! Bravissimi. Bravissimi. Guarda Brunello quando lo muovi manuale come intercetta di Cristo. Allora, raga, dopo averli provati, sia Bruno che Mané, Sala, mi sento di partire da Bruno dicendo che, nonostante costi due lire, e io di tasca mia non gliene avrei data manco una, ne possiamo parlare. Perché? Alto, alto come work rate, quindi bene, sia davanti che dietro, c'è la stessa intensità. 4 di skill e 3 di piede debole. Pensavo e speravo che gli up gradassero il piede debole per riportare un po', insomma, i fasti dell'anno scorso. Invece gli hanno lasciato 3, hanno aumentato a chiunque, a Sala, a Mané, invece no, a Bruno gli hanno lasciato 3. E questa cosa del piede sinistro è un po' un problema, perché, insomma, quando si tratta di dover impostare, quando si tratta magari di dover fare un tiro, questo 3 di piede debole purtroppo si sente. Però, tralasciando questo, cioè, questo qui è portoghese dello United, vi dà la possibilità di linkare la qualunque, costa 190.000 crediti, è totalmente regalato a questo prezzo. E, se andiamo a guardare le statistiche, per quanto riguarda la velocità, l'agilità, l'equilibrio, eccetera, vi dico bene, infatti, soprattutto quando si tratta di dover impostare l'azione con la levetta analogica, con questo qua godete, perché si muove benissimo, ha degli ottimi passaggi, però vi ripeto, quando si tratta di doverli fare con il destro, perché con il sinistro, insomma, non può scendere manco dal letto, probabilmente. Tira anche molto bene, in particolare a giro, da lontano, quando beccate i timed, ogni tiro è una minaccia per il portiere avversario, visto che ha 95 di potenza e 95 di tiro dalla distanza. A livello di caratteristiche, appunto, pure tiro da fuori, passaggio lungo, eccetera. Fase difensiva, ovviamente, vi chiederete come rende. Allora, sicuramente non è un Kanté, sicuramente non è un Bellingham, sicuramente non è un De Bruyne, per come rende De Bruyne quest'anno. Però vi posso dire che quell'80 di lettura difensiva, abbinato comunque a un 73 di intercetto, è un giocatore che è basso, non è, perché parliamo di 1,79, quindi parente a 1,80. Se vi piace difendere tanto in maniera manuale, che quindi andate a selezionare il mediano, lo mettete sulla linea, temporeggiate con l'L2, sto Bruno fa veramente la sua sporca figura. Quindi io mi sento di dire che è un bel giocatore, gli do probabilmente non to' più 8,5, dai, perché mi ha veramente sorpreso. Ruolo consigliato, ovviamente, centrocampo a 2, che possa essere un 4-2-3-1, 4-4-2, ma anche la mezzala può fare in un rombo, assolutamente non il C e C, per via del 3 di piede debole. Passiamo a Manet, appunto, il primo dei giocatori che ha beccato un upgrade veramente importante, perché passa ad avere 4 di piede debole, ma soprattutto il 5 di skill che non aveva o non ha mai avuto quest'anno. 10 partite giocate, 4 gol e 6 assist, costa tanto, perché costa tanto, ma sono sicuro che è un po' calerà, soprattutto con gli spacchettamenti dovuti all'apertura dei premi della VL. Questo è un fenomeno assoluto, perché con l'accelerazione 99, velocità scatto 99, si sentono tutti, quando lo mettete a correre in fascia, perché l'ho giocato sia fascia che punta, ma preferendolo in fascia, è una roba fuori di testa, fuori dal normale, si teletrasporta. Ha degli ottimi passaggi, skill anche molto bene, tiene attaccata la palla al piede quando si tratta di dover fare elastici, reverse elastici, la suola ha più il ball roll, si muove molto bene anche palla al piede semplicemente con i micromovimenti, di fatti 99 di agilità, 99 di reattività, 98 di dribbling, sono tutti quanti i parametri che parlano per lui. Non è appesantito dal parametro di forza che sti tots ormai hanno praticamente tutti quanti, altissimo, ma finalizza anche molto bene, quando si tratta di buttare la palla in porta, lo fa. Quindi a lui gli do 10, 9,5-10, perché è veramente super versatile, anzi forse 10 se fosse stato 5-5, gli diamo 9,5, ma per me lì a sinistra è il migliore esterno del gioco, ma a mani bassissime, perché è super completo. Vi ripeto, l'unica pecca è probabilmente il prezzo altino, però non vi aspettate che a calare cali più di tanto, perché stiamo parlando di veramente un giocatore fuori dal comune. Così come fuori dal comune è sto Mohamed Salah, che anche qua prende un upgrade importantissimo in piede debole, infatti passa da 3 a 4 e diventa 4-4. Piede sinistro il favorito, alto normale il workrate, 10 partite giocate, 7 gole e 2 assist, costa anche lui non poco, però anche in questo caso stiamo parlando di un'eccellenza assoluta, perché? Body type della Madonna, questo sembra bei header in termini di agilità, è straveloce, in particolare con lo speed boost, anche qua da degli strappi clamorosi, ha un tiragiro della Madonna, infatti c'è anche il tratto di tiro di precisione, ma come avete potuto vedere dalle clip, finalizza benissimo quando c'è da finalizzare anche con tiri normalissimi, ottimi passaggi, vi dicevo che si gira alla stragrande, resistenza altissima, quindi questo vi può correre per 240 minuti, non per 120, e lo potete giocare secondo me anche da seconda punta, perché quel destro, io non lo so se quel 4 in realtà gli volevano mettere 5, ma come avete visto anche dalle clip, a giro, di potenza, di qua e di là, pareva il sinistro, cioè assolutamente non c'è differenza tra il suo piede forte e quello debole, quindi anche qua voto d'elite, gli do un 9 perché non c'è il 5 di skill, che è importante per un esterno, però anche qua una carta veramente spaziale, hanno fatto un bel lavoro pure con Momo. Per questo video è tutto raga, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e in particolare quali altri giocatori volete vedere sul canale, a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, in descrizione vi ricordo tutti i link alla piattaforma Viola dove sono live ogni giorno, un saluto nel vostro Liberoschi, ciao! Grazie a tutti!